Momenti di paura nella città vecchia di Taranto, in via di mezzo, nei pressi di Vico Zippro, per un incendio che si è sviluppato all'interno di uno stabile abbandonato di quattro piani, già puntellato per ragioni statiche e censito dal comune. Per fortuna non si è registrato nessun ferito. L'immobile è privo di tetto, il rogo si sarebbe sviluppato per la presenza di qualcosa di infiammabile, forse una cicca di sigaretta lanciata accidentalmente ed entrata a contatto con la catasta di rifiuti presenti all'interno. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno raggiunto il posto con due squadre, una proveniente dal distaccamento del porto, l'altra dal comando provinciale, un intervento reso complesso dalla mancanza di accessi diretti all'appartamento sul piano stradale. I pompieri hanno così dovuto creare un accesso nel muro per avvicinarsi alla fiamma e poter operare per lo spegnimento dell'incendio, poi domato in breve tempo. Nessun problema per gli abitanti dei palazzi vicini che hanno potuto poi tranquillamente rientrare nelle proprie abitazioni, sul posto anche carabinieri e polizia locale, per i controlli di rito e l'accertamento dei motivi che hanno causato l'episodio.